I montaltinesi festeggiavano la Santissima Annunziata la prima domenica di maggio, anziché il 25 marzo, data l'inclemenza del tempo, frequente in quel periodo. Era, per loro, un anticipo della festa patronale in onore di Maria SS dello sterpeto e di San Ruggero che si celebrava a Barletta nella prima domenica di luglio, e richiamava, nella borgata, tanti barlettani, Andriesi e Canosini. Nella foto il momento del raccoglimento spirituale e della preghiera, all'interno della chiesetta, adodata a festa. La processione della festa della Madonna, che aveva una tradizione antichissima, si svolgeva a partire dallo spiazzo antistante il Palazzo Ducale, allora molto più ampio e dopo un percorso circolare ritornava al punto di partenza. A quel tempo a Montaltino vivevano circa 200 famiglie e il problema maggiore era quello di mandare i figli a scuola ogni giorno a Barletta. Grazie a tutti.